ciao amiche allora altri nuovi libri al mercatino dell'usato ogni volta che vado lì a riscuotere i miei soldi automaticamente una parte di quei soldi che riscuoto glieli lascio di nuovo e questo un po penso sia l'anima di questi negozi di questi mercatini che giustamente hanno il loro tornaconto perché alla fine è vero che devono risarcire chi lascia lì cose e chiaramente le vendono devono dare la loro parte ma è vero anche che chi ha l'abitudine di fare compravendita nei mercatini dell'usato molte volte parte dei suoi proventi le reinveste proprio all'interno del negozietto e quindi diciamo che loro hanno il loro guadagno tra l'altro hanno ingrandito tantissimo il mercatino dove mi servo io di solito è diventato una cosa enorme e hanno un sacco di mobili divani e mobili tantissima discografia anche di vinili il reparto libri è fantastico c'è un ragazzo lì bravissimo che sa selezionare molto titoli interessanti soprattutto per quello che riguarda anche la crescita personale spiritualità psicologia tutti i settori che sono di mio interesse quindi c'è veramente di tutto la qualunque come direbbe la mia amica questo è il mio bottino di oggi vi faccio vedere quello che ho comprato di carol adrian che è la coautrice di guida alla profezia di celestino e guida alla decima illuminazione lo scopo della tua vita io ho un libro dal titolo simile e questo mi è piaciuto moltissimo ho lasciato la finestra aperta gravissimo errore primo piano sentire tutto questo mi è piaciuto moltissimo per trovare la propria strada grazie all'intuizione alla sincronicità e alle forze nascoste della mente diciamo che è un miscuglio tra psicologia e spiritualità quindi un pochino attinente a quello che sono i miei gusti allora dietro dice spesso la nostra più grande paura è quella di non aver mai veramente vissuto di non aver mai considerato a fondo lo scopo più elevato della nostra esistenza di non essere mai entrati in contatto con quello scopo e di avere almeno tentato di fare la differenza in questo mondo con questo libro semplice e diretto carol adrian ci mostra come entrare in sintonia con le forze della natura che ci circonda come imparare ad ascoltare le nostre intuizioni e grazie ad esercizi pratici carte numero numerologiche questionari e testimonianze illuminanti come rinascere alla vita che abbiamo sempre sognato molto molto interessante un po' vecchiotto un po' già letto dentro ho scritto abbastanza piccolo come vedete i contorni sono gialli quindi un libro datato però sbirciando all'interno mi è piaciuto molto perché c'è anche del coaching dentro non volendo in tempi non sospetti perché secondo me questo libro è vecchissimo vediamo un po' vediamo di quando è infatti 1998 ha 21 anni comunque vecchissimo è vecchio diciamo che vent'anni fa tante cose come il coaching non si sapeva nemmeno cosa fossero lista di controllo dell'intenzione la mancanza di fiducia in se stessi rappresenta un punto cruciale quando ci sentiamo chiamati a fare dei cambiamenti del nostro stile di vita la gente può inviarci dei messaggi sul nostro prossimo passo e tuttavia se ci manca la fiducia per passare all'azione non possiamo trarre beneficio da quei massaggi messaggi perdonate quando siamo bloccati su un problema ciò che ci impedisce di agire nel senso del cambiamento è la mancanza di informazioni o il fatto di essere stati feriti nel nostro senso di potere per una determinata questione o il fatto che non abbiamo a disposizione alcun sistema che ci permetta di far progredire la situazione ponendo delle domande strategiche io spalanco una porta alle persone permettendo loro di andare oltre il dolore il senso di colpa e l'impotenza e di attivare l'aspetto visionario e creativo dei loro contributi visione creazione strategia c'è tanto di coaching qui dentro questo è frank pivi che lo diceva scritto così c'è tanto tanto di coaching quindi siamo proprio ai primordi vari esempi sincronicità intuizione senso del non comune realizzare il sogno esiste un bisogno in evaso accanto a te il campo magnetico del tuo scopo di vita c'è Wayne Dyer che dice in un certo senso dovresti pensare alle cose che desideri come se fossero disposte lungo una corda senza fine e che tuttavia è invisibilmente attaccata a te è solo un problema di fiducia nel fatto che sei in grado di portare verso di te quella corda e che qualunque opportunità sia destinata a entrare nella tua vita una volta che tu abbia sviluppato la capacità di riceverla ci sarà ma il trucco è che non puoi riceverla o anche avvicinarti alla sua manifestazione se manchi di fiducia in te stesso come estensione di dio raga sono contentissima di questo libro è veramente bello sa di buono parla un linguaggio che io capisco mi piace mi piace tantissimo io c'ho la miciuzza qui bellissima stupenda mozzica come una satana oh satana ecco qua madonna quant'è miciuzza la eccola qua la mia bisteccona nera sei pericolosa mordi e fuggi no non ci provare lei capisce il riprovero non lo fare non lo fare stavo giocando ma tu vai sul pesante non si fa ehi 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 quindi si stronzella ti violento tutta dai non ti arrabbiate vai su o stai o vai ma non mi devi graffiare ok francesco alberoni innamoramento e amore di questo libro sento parlare da quando ho conosciuto giovanna breccia nel 1986 è un libro interessantissimo l'innamoramento viene collocato o nella sfera dell'ineffabile o del disprezzo su di esso hanno il diritto di parola o i poeti o i terapeuti chi nella sua vita privata lo conosce intimamente non manca di prenderne le distanze in pubblico quasi fosse contagioso non vi è un solo libro di psicologia o sociologia sull'argomento esiste è vero qualche libro di psico no scusate esiste è vero qualche alti articolo ma dove l'innamoramento è continuamente trattato insieme all'amore all'alienazione della coppia alla follia ea qualcosa d'altro vi sono poi per fortuna saggi molto belli come quello di stendhal o de rougemont o di bart in cui si parla dell'amore passione sono opere di grande chiarezza rese possibili forse perché questi autori si sono inseriti sul registro letterario tutta l'arte infatti è ricca di questo tema e in particolare tutta la poesia dalla più grande alla più modesta questo è un libro sull'innamoramento che non è inserito sul registro letterario esso appartiene alla sociologia alla psicologia o se si vuole alla filosofia contemporanea lo scritto in un linguaggio semplice perché fosse accessibile a tutti e l'ho fatto breve limitandomi a dire cose essenziali per coloro che vogliono vedere qual è la teoria generale che sta dietro le numerose proposizioni apodittiche devo fare un rinvio a movimento e istituzione il libro sull'innamoramento infatti avrebbe potuto essere un paragrafo di quello ma poiché l'innamoramento è sperimentato direttamente e completamente da tutti cosa che non capita negli altri movimenti collettivi ho preferito svilupparlo qui più estesamente ed in modo più piano molto interessante l'ho sbirciato dentro devo dire l'ho trovato immediato perché descrive proprio il mondo interiore il flusso di pensieri che abbiamo noi quando ci innamoriamo e quando iniziamo a coinvolgerci talmente tanto nella relazione di amore quindi dall'innamoramento c'è poi il passaggio ad amore concreto perché c'è un certo punto in cui si sperimenta la distanza dall'altro e si combatte per distanziarlo perché la fusione è talmente grande che rischi di liquefarti all'interno di un sentimento così forte sono fasi che i primi anni di un amore di un innamoramento si passano e chiaramente arrivi a un certo punto che c'è il grande salto nel bene e nel male cioè o passi all'amore o ti lasci quindi è molto bello molto immediato e c'è tutto questo passaggio di pensieri di sensazioni di conflitti interiori lui li descrive proprio come pensieri virgolettati e ti riconosci perché comunque sono i pensieri comuni che facciamo tutti noi capito adesso non mi arriva nulla il fatto stesso che l'amore dell'altro ci appaia come grazia immeritata ce lo fa temere perché quella grazia potrebbe non giungere proprio nel momento in cui noi la desideriamo di più e non possiamo farne a meno noi perciò vogliamo fare a meno di quella grazia oppure cerchiamo di trasformarla in certezza certezza di reciprocità negli atti dell'altro cerchiamo le prove che ci ama li esaminiamo come significanti della reciprocità d'amore a lui bisogno di me come io ho bisogno di lui il comportamento dell'altro viene decifrato in questa luce per conoscere ciò che è e ciò che sarà prima che sulle margherite il mama non mama è cercato nei comportamenti dell'altro se fa così vuol dire che se non fa così vuol dire che dalle cose più semplici come se arriva in anticipo il ritardo dal fatto che guardi o non guardi un'altra persona ma il significato non è mai limpido può arrivare il ritardo trafelato e allora questo cosa significa che si era dimenticato di me oppure che ha fatto fatica ad arrivare da me e perciò il suo ritardo è una prova d'amore è immediatissimo è molto molto interessante lo leggerò con piacere perché è un saggio piccolo quindi leggibilissimo poi brian weiss allora di brian weiss io ho già il libro sulle anime gemelle cioè su quegli incontri nella nostra vita che sono poi di persone che con tutta probabilità ci siamo portati dietro da altre vite e ce l'ho quel libro devo ancora iniziare a leggerlo e mi colpì tantissimo perché brian weiss è uno psichiatra americano che fa anche terapia di ipnosi regressiva e crede nella reincarnazione per cui poi si è trovato con pazienti un maschio e una femmina che entrambi non conoscendo si ricordavano lo stesso episodio e l'avevano vissuto assieme quindi poi lui li ha fatti conoscere alla fine si sono innamorati erano innamorati anche nelle altre vite così risulta da tutte queste ricerche e io credo molto a questa storia delle anime gemelle in quel libro lui spiega in particolare che l'anima gemella è appunto questa figura che ruota attorno alla nostra vita o che magari scopriamo aver ruotato per anni attorno alla nostra vita dopo che la conosciamo poi realmente in questa vita e noi non sapevamo perché non ci si conosceva ma si è frequentati magari gli stessi luoghi negli stessi tempi storici quindi c'è stato un affiancamento che prima o poi portava alla conoscenza e che magari non è detto che la tua anima gemella sia quella che tu sposi in questa vita capito però ti sarà sempre accanto perché per il tuo cammino evolutivo di quella vita lì hai bisogno magari di un altro marito di altri figli di altri genitori eccetera molto interessante come teoria la approfondirò quando leggerò anche l'altro libro questo sempre di Brian Weiss messaggi dai maestri come trasformare la nostra vita attraverso la comprensione quando si parla di maestri in questo testo come anche nei testi di Igor Sibaldi si parla sempre di figure che nella diciamo nella religione la tradizione religiosa potrebbero essere angeli custodi o similari nel caso di questi studiosi normalmente si parla di guida invisibili di superiore di figure superiori a noi che sono un po il nostro io supremo non so se mi capite e che potrebbero spiegare fenomeni particolari come la maniera in cui in maniera del tutto inspiegabile gli egizi antichi hanno creato le piramidi che tutt'oggi rimangono un mistero ma nascondono una sapienza di tipo superiore che non è per l'uomo di quei tempi no quindi vabbè tutte ste robe qui misteriose a me piacciono mi leggo un trafiletto dietro lui è Brian Weiss dietro dice l'amore è il motore dell'universo e la più potente energia di guarigione per Brian Weiss è un sentimento che trascende i limiti del mondo fisico e non si esaurisce con la vita terrena perché noi siamo anime immortali destinati a incarnarci più volte nel corso della storia con la tecnica della terapia regressiva il dottor Weiss ci spiega come riportare alla mente memorie delle nostre vite precedenti i cui eventi cruciali continuano ad influenzare la nostra realtà quotidiana attraverso i ricordi dei suoi pazienti l'autore ci offre un'occasione unica per esplorare il mondo dopo la morte e apprendere gli insegnamenti dei maestri spiriti guida altamente evoluti che non hanno una forma fisica e tra l'altro mi è piaciuto molto questo libro perché lui dentro praticamente riporta proprio i dialoghi con le persone che stanno in terapia da lui quindi quando fanno ipnosi regressiva lui riporta proprio i dialoghi virgolettati delle domande risposte varie qui dentro c'era pure un biglietto di auguri di una moglie a un marito il romano fighissimo per chi non è romana dice te volevo fare un regalo speciale ma dopo una mattinata a mezzo al traffico tre ore a cerca un posto ho litigato pure col parcheggiatore scopro delle cose meravigliose non c'ho avuto il tempo di fattelo mi dispiace una cifra poi dentro c'è il messaggio a penna non è vero il regalo ce l'abbiamo fatto e anche con tanto amore ti adoro sei la mia vita ti amo tantissimo franci poi sotto a me c'è una riga papà tu sei il papà più bravo e sei tanto socievole con la senza la i la tua figlia nicole la tua moglie franci no troppo carini questo lo conservo qui dentro e chi ci meglio che non mi appartiene ma mi piace poi raymond moody junior la luce oltre la vita questo è un altro testo di quelli che a me piacciono tantissimo che parla appunto di esperienze di premorte vi leggo il trafilettino le testimonianze di quanti si sono trovati sulla soglia di una vita luminosa che si apre dopo la transitoria esperienza della morte una risposta di speranza agli interrogativi ultimi che l'uomo da sempre si pone lui è raymond moody junior è nato a macon in georgia nel 44 ha insegnato per tre anni etica logica e filosofia del linguaggio alla east carolina university successivamente si è lavorato anche in medicina molto ammazzo posta busta al medical college della georgia negli oscar bondatori ha già pubblicato la vita oltre la vita nuova ipotesi sulla vita oltre la vita ricordi di altre vite ricongiungersi incontri con l'aldilà ricongiungersi mi piace devo dire poi gli ultimi due fichissimo questo libro fantastico nuovo di zecca bellissimo il metodo the tools il caso editoriale che ha conquistato il mondo di phil stats e barry michaels il metodo per cambiare da subito la tua vita e ritrovare forza fiducia e coraggio altro libro di coaching ci sono qui delle bellissime recensioni di vari giornalisti però non ve le leggo vi leggo invece la recensione interna il trafiletto dove spiega un po' di cosa parla questo libro allora il libro rivoluzionario sulla crescita personale alle un kit di strumenti pratici immediati ed efficaci per migliorare da subito la tua vita i pazienti che intraprendono un percorso di psicoterapia lamentano in particolare un fatto prima che nella loro vita si possa registrare un qualsiasi cambiamento si deve attendere per un tempo che pare interminabile il metodo offre finalmente una risposta a questa frustrazione quando il presente e il futuro prossimo ci procurano ansia preoccupazione e dolore è inutile cercarne le cause nel passato come fa il modello tradizionale di intervento psicologico questo lo dice anche i corsi baldi phil stats e barry michaels hanno invece sviluppato un insieme di tecniche semplici e innovative per passare immediatamente e in poco tempo all'azione le hanno chiamate the tools gli strumenti e rappresentano la chiave che permette a chiunque di far leva sui propri problemi per accedere all'immenso potere delle risorse interiori gli ostacoli si trasformano così in opportunità con risultati sorprendenti grazie a veloci esercizi pratici si ritrova il coraggio si supera la paura si rafforza l'autostima si riesce ad esprimere veramente il proprio essere si diventa più creativi per decenni gli autori hanno insegnato l'uso di questi strumenti ai pazienti conquistandosi una clientela sempre più numerosa ed entusiasta e una fama prossima al culto con il metodo il loro approccio rivoluzionario è finalmente disponibile per tutti coloro che vogliono sfruttare fino in fondo il proprio potenziale e cercano una nuova via per superare le grandi e piccole difficoltà quotidiane la promessa contenuta in queste pagine è essenziale e ambiziosa trasformare la vita di ognuno in un'esperienza eccezionale che conduca alla vera conoscenza di se stessi e a una profonda e duratura felicità migliaia di persone che hanno migliorato radicalmente la propria esistenza grazie a questi strumenti possono testimoniarlo il metodo funziona master university psicoterapeuta uno psichiatra l'altro quindi assolutamente persone affidabili e questi libri come sapete un giorno saranno venduti usati da parte mia ho già fatto un primo video di libri usati erano dieci copie nel giro di due ore le avevo vendute tutte quindi queste cose bellissime che state vedendo prima o poi io poi le rivenderò perché come al solito cercherò di prendere i miei estratti proprio quello che mi interessa trascriverlo altrove e vendere poi il libro perché altrimenti si accumulano libri e si spendono soldi devo recuperare questo che ho speso e reinvestirlo in altre letture se voglio leggere sempre di più ma non diventare povera per questo ultimo libro guardate nuovo di zecca con tanto di fascetta che lo tiene è proprio un libro nuovo da poter addirittura regalare in tonso completamente nuovo si intitola felice se lo vuoi di raffael santandro prima in classifica in spagna un milione di copie vendute editore vallardi vi leggo il dietro il retro perché questo poteva essere poteva sembrare uno dei soliti libri di narrativa da sotto l'ombrellone romanzello eccetera in realtà non è così anche questo è un libro di crescita personale e coaching quindi bellissimo come si presenta sinceramente vediamo come all'interno azzurrino tiffani bellissimo copertina dura allora vi leggo dietro cosa dice rafael santandro è il nuovo punto di riferimento del self help internazionale lo psicologo sto litigando che ha insegnato la felicità a milioni di lettori grande critico di alcuni successi del recente passato uno su tutti the secret di ronda byrne ha reinventato la psicologia per il grande pubblico imponendo i concetti di terribilite e necessitite in questo libro rafael ci insegna ad affrontarle e ci offre gli strumenti necessari per raggiungere la felicità wired ha recensito dicendo fra i tantissimi i manuali di psicologia spicca il libro di santandro che ha avuto un grandissimo successo santandro ha un linguaggio amabile e sincero che arriva dritto al cuore il suo punto di forza racconta storie coinvolgenti ed esemplari che ci parlano di un determinato problema e del suo superamento dai complessi di inferiorità alla gelosia dalla rabbia alla paura della morte riallacciandosi alle regole di base della psicologia cognitiva rafael pone al centro di felice se lo vuoi la necessità di un cambiamento di mentalità da perseguire con metodo per smontare i dannosi meccanismi irrazionali le famose convinzioni credenze inconsapevoli o convinzioni limitanti l'idea di fondo è semplice e folgorante per essere felici basta poco occorre godere di ciò che si ha evitando di crearsi falsi bisogni l'importante è capire come si fa e l'autore ce lo spiega passo per passo mi piace lui si è formato come psicologo alla scuola di giorgio nardone ragazzi palo alto fantastico nel centro di terapia strategica di arezzo beh sono tutte persone figure di cui io mi circondo per il mio studio quindi sono molto molto contenta nardone è estremamente apprezzato anche in accademia dove studio tutta l'università la scuola di palo alto è enormemente apprezzata è impegnato nella formazione di medici e psicologi e nella divulgazione delle sue teorie attraverso media come la televisione e la rivista mente sana della quale è stato caporedattore per ballardi ha pubblicato anche il best seller l'arte di non amareggiarsi la vita panorama ha recensito dicendo il nuovo fenomeno editoriale arriva dalla spagna 60 settimane in classifica bellissimo veramente spero di campare 150 mila anni perché io voglio leggere assolutamente non solo tutti gli oramai quasi 60 libri che ancora ho da leggere in questa casa ma voglio leggerne anche molti 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 altri voglio passare il resto della mia vita a leggere veramente finiti i miei acquisti tanto tanto felice io vi saluto perché fra tre minuti viene una persona a prendermi per uscire è tardissimo mi preparerò in tre minuti sarò brava ciao ragazzi a presto a prestissimo ciao Grazie a tutti.